Inaugurato sulla spiaggia SPQR di Ossia il murales dedicato a Lorenzo Moi detto Lollo e da tutti i giovani del litorale romano. Lorenzo è scomparso lo scorso 12 gennaio a soli 21 anni a seguito di un incidente investito da un autobus mentre percorreva a piedi la via del mare all'altezza di Cineland. Un murales per Lorenzo? Sì, allora il decimo municipio ha voluto ascoltare questa famiglia, ascoltare gli amici, i parenti che volevano fare una cosa bella sia per il ricordo di Lorenzo Moi che ovviamente appunto il murales è dedicato a lui ma anche un don alla cittadinanza. Ci siamo detti in consiglio municipale che questo sarà un luogo dove potersi incontrare per i ragazzi, passare delle ore gradevoli con un bel disegno sul quale fantasticare e ognuno farà la sua fantasia in base al suo stato d'animo. Questo murales è un ricordo per Lorenzo che era nostro amico e anche cliente perché io e Fabio e le persone che l'hanno realizzato siamo due tatuatori e lui era nostro cliente e proprio Fabio ha tatuato sulle mani di Lorenzo il sole che vedete rappresentato. Quindi il primo messaggio è questo. Poi i colori del tramonto così per renderlo più caloroso e poi ci troviamo al mare e poi all'interno ci abbiamo messo un portale che è una porta d'accesso per tenerci sempre connessi con Lorenzo. Quindi è questo qui. Che ricordo hai di Lorenzo? Una persona solare che metteva compagnia e te faceva due risate. Una persona buona, molto buona. Un ricordo di Lorenzo? Troppi, troppi ricordi. Un ragazzo eccezionale che il mondo dovrebbe prendere sempre esempio da ragazzi del genere. Noi che rimaniamo non credo che riusciremo mai a cancellarlo. In molti hanno voluto rendere omaggio a Lorenzo e tanta anche è stata la commozione. Da Ostia per Canale 10 Paolo Leone.